Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video sponsorizzazione. Vorrei sponsorizzare il canale di Magnus0618 il codice creatore KCL Magnus0618 comunque vi lascio tutto in descrizione. Vorrei fare un saluto speciale a Filippo Gamer96, ti ringrazio di cuore per seguirmi ogni volta e per fare le scalate insieme a me. Oggi siamo ai piedi del ruscello che vi ho fatto vedere l'altra volta e non potevamo passare perché era troppo lì. Una panchina, che benessere. Wow. Vorrei sponsorizzare il canale di Hellens Ricette, vi lascio sempre il link in descrizione. Mi raccomando passate nel suo ultimo video, lasciate un bellissimo like, un bel commento se vi fa piacere. Fatemi sapere in un commento cosa vorreste vedere nel prossimo video. Io non posso portare Browstar né Clash of Clans perché la connessione va malissimo. Non posso neanche fare gli attacchi che subito lagga. Quanto è bella la natura ragazzi. Qualcosa di meraviglioso. Mi raccomando rispettate. Quando torno a casa avrò appunto una connessione più stabile e appunto decente. Vi avviso così possiamo giocare su Browstar. Ok Luke, questo messaggio è per te. Questo video finisce qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per essere sempre aggiornati con me. E noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.